Musica Con accusi a vario titolo di contrabbando, imbarco arbitrario di merci, sono nave militare, peculato d'uso, esticazione alla corruzione e falso, sei persone di cui cinque militari della valina italiana sono state sottoposte a misure cautelari. Perquisizioni nei confronti di 39 tifosi del Bari del Lecce sono state eseguite da agenti della Digos su disposizione della Procura di Foggia. Nell'ambito dell'inchiesta sulla violenta rissa avvenuta tra le due tifoserie lo scorso 23 febbraio lungo l'autostrada A16. Oltre eventi di scariche abusive lungo la litorale nord di Brindisi, gli incivili continuano a lasciare tracce ovunque. Una settimana di allenamenti individuali, il calcio accelera e cerca la ripresa. Oggi 11 maggio, data storica per Lecce e Virtus. Buon pomeriggio, apriamo la pagina regionale con la cronaca. Perquisizioni a Lecce e a Bari per gli scontri avvenuti il 23 febbraio scorso lungo l'autostrada A16, quando i giallorossi furono vittima di un agguato con Sprang e Bengala da parte dei biancorossi. Perquisizioni a Lecce e a Bari per gli scontri avvenuti il 23 febbraio scorso sull'A16, quando i giallorossi furono vittima di un agguato con Sprang e Bengala da parte dei biancorossi. La Digos ha eseguito una serie di controlli, 39 perquisizioni in tutto nelle abitazioni di tifosi di entrambe le città, 25 a Bari e 14 a Lecce, su disposizione della procura di Foggia. I fatti, lo ricordiamo, si svolzero all'altezza di Cerignola, quando i pullman delle Cesi vennero accerchiati e attaccati per strada e poi dati alle fiamme. Fu un vero e proprio agguato lungo l'autostrada Canosa-Napoli, con un bilancio pesantissimo tra feriti e mezzi in fiamme. Protagonisti del caos, oltre 150 sostenitori del Bari, in viaggio per la trasferta contro la Cavese, e due mezzi con a bordo tifosi del Lecce, diretti invece a Roma. Teatro della vicenda e il casello di Cerignola, zona Ofanto. Qui, Ultras del Bari sarebbero riusciti a bloccare il traffico mettendosi di traverso e cospangendo di chiodi l'asfalto. Il bilancio dell'agguato, due mezzi pesantemente danneggiati, e un altro andato del tutto distrutto dallo incendio, innescato da alcuni bengala lanciati. Scene di ordinaria follia, sulle quali sono tuttora in corso le indagini. E sulla fase 2 interviene il copresidente di Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto. Servono parole chiare. Emiliano e la sua task force hanno sbagliato strategia anche sui tamponi. Finalmente se ne è accorto anche lui. Ed ora speriamo, continua sempre l'onorevole Fitto, che la cambi, evitando questo imbarazzante tentativo di provare a scaricare la colpa sullo governo. Peraltro, annunciare oggi che si sono aggiunti i laboratori privati per le analisi sui tamponi è la conferma degli errori commessi. Ora si proceda rapidamente, conclude Fitto. Non si perda altro tempo, anche perché lunedì prossimo inizia la vera fase 2, quella della riapertura di tante attività commerciali. E a questa deve avvenire in piena sicurezza. E in Puglia, ieri, almeno fino a ieri, si sono registrati 5 decessi e 27 nuovi casi di infezione dal coronavirus, su un totale complessivo di 1.756 tamponi. 27 nuovi casi di positività al Covid-19, secondo quanto emerge dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia, del 10 maggio. Ed è il Presidente regionale, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, ad informare della situazione quotidianamente. Ben 22 sono i nuovi positivi nella provincia di Bari, uno nella provincia di Brindisi, tre in quella di Foggia, uno nella provincia di Lecce. Nessun nuovo positivo nella provincia BAT e nella provincia di Taranto. Sono stati registrati poi 5 decessi, due in provincia di Foggia, uno in provincia di Bari, uno in quella di Brindisi ed uno nella BAT. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi ben 78.399 i test effettuati, 1.196 sono i pazienti guariti e 2.669 i casi attualmente positivi. Ad oggi il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.313, divisi naturalmente nelle diverse province. 1.413 in quella di Bari, 381 nella provincia di BAT, 605 nella provincia di Brindisi, 1.111 nella provincia di Foggia ed ancora 504 nella provincia di Lecce, 270 in quella di Taranto. 28 gli attribuiti a residenti fuori regione ed uno per il quale è ancora in corso l'attribuzione della relativa provincia. E come sempre i Dipartimenti di Prevenzione delle Asla hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche finalizzate a rintracciare i contatti stretti dei nuovi positivi. E sul caso della scarcerazione di Francesco Barilevo interviene l'avvocato, comprendo e ho grande rispetto per il dolore della famiglia di Carmelo Magli e di Francavilla Fontana, vittima di un agguato atroce, ma Francesco Barilevo non ha ottenuto alcun privilegio. Si trova agli arresti domiciliari per le sue patologie che lo fanno rientrare nelle categorie particolarmente a rischio. Quando passerà l'emergenza coronavirus tornerà in cella e continuerà a scontare la sua condanna come sta facendo da oltre 23 anni. L'avvocato Rossella Trani, difensore del Tarantino, condannato all'ergastolo per l'omicidio del giovane agente della Polizia Penitenziaria, replica al polverone sollevato dal provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha concesso il beneficio dei domiciliari al suo assistito. Una decisione che ha scatenato lo sdegno in primo luogo della figlia dell'agente di Francavilla, brutalmente assassinato dalla mafia nel novembre del 1994. Il mio assistito, dice l'avvocato Trani, è un uomo molto diverso da quello di 19 anni fa. Ha ammesso le sue responsabilità e ha da tempo anche manifestato la volontà di chiedere scusa alla famiglia. È consapevole di essersi macchiato di un delitto terribile. Io stessa, dice l'avvocato, ho provato a cercare sponde nel sistema carcerario per trovare la maniera migliore per consentirgli di scusarsi con la famiglia. So perfettamente che non è semplice e attendo ancora risposte. Il discorso diverso, però, sottolinea l'avvocato, è quello che riguarda la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Cantiere Taranto. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, è riuscita a introdurre nel testo del decreto in approvazione domani finanziamenti pari a circa 200 milioni di euro che consentirebbero al Comune di Taranto la rapida cantierizzazione di opere praticamente fondamentali per uno sviluppo sostenibile della città. Lo sottolineano in una nota congiunta il coordinatore della Segreteria Nazionale del PD, Nicola Odati, e il responsabile ambiente della Segreteria regionale del partito, Massimo Moretti. Si tratta, aggiungono, di finanziamenti, però, opere tese ad una mobilità urbana più sostenibile per Taranto, quindi meno inquinante, nonché tese al potenziamento del trasporto pubblico sia all'interno della città che verso l'aeroporto di Brindisi e la stazione ferroviaria di Bari. Opere che la città di Taranto attende da tempo, che potrebbero essere finanziate nel decreto in approvazione domani. E a Taranto, dopo l'ordinanza del sindaco che ha disposto la riapertura dei parchi cittadini, è il momento dei controlli all'interno degli stessi. Non siamo rientrati nella normalità alla quale noi tutti eravamo abituati, ma è una domenica di fine primavera quasi e la voglia di uscire di una passeggiata, di riappropriarsi di aree verdi cittadini e tanta. Così, dopo l'ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, di riapertura dei parchi cittadini, è il momento del controllo. Una domenica mattina da fase 2, non siamo ancora ovviamente rientrati nella normalità alla quale siamo abituati, dobbiamo ancora essere molto prudenti, dobbiamo stare attenti e rispettare soprattutto le regole. Questo è un accenno di quella normalità alla quale eravamo abituati prima, parchi aperti per poter svolgere l'attività motoria e tutte le attività consentite dal DPCM. Quindi un ringraziamento particolare a tutti i volontari che nelle cinque aree che abbiamo riaperto, Villa Legari, Villa Attica, Parco della Gioia, Parco Cimino e Villa Peripato, stanno avendo un occhio vigile ma gentile, affinché tutti conoscano il contenuto del DPCM, le attività consentite, ma soprattutto possano godersi una domenica e tutti gli altri giorni in tranquillità e serenità nel rispetto delle regole. La prima domenica dopo il lockdown, quella della festa della mamma, all'aperto sì, ma sempre in sicurezza. Ed ora parliamo di abbandono incontrollato dei rifiuti. A Massafra una consigliere comunale insieme alla partito, al Movimento Italia Viva, chiedono alla comune di provvedere in maniera celere. Ancora una volta Massafra è vittima dell'abbandono incontrollato dei rifiuti. L'allarme arriva da Ida Cardillo, consigliere comunale, e Angelo Notaristefano di Italia Viva Massafra. Chiediamo dei provvedimenti urgenti. Le responsabilità ricadono sulla negligenza dell'assessorato all'ambiente. Il 24 aprile scorso, sottolineano, l'assessore Di Gregorio ha comunicato che la raccolta degli indumenti usati veniva sospesa, il tutto però senza informare capillarmente i cittadini e senza trovare un modo alternativo per smaltire gli abiti usati, non tenendo conto che a Massafra se ne smaltiscono ogni mese circa 8 tonnellate. In pochi giorni è esplosa una nuova emergenza rifiuti nel territorio comunale, causata dall'abbandono incontrollato e improprio. Cardillo e Notaristefano chiedono all'autorità competente di provvedere con apposita ordinanza a carattere d'urgenza alla bonifica immediata dei siti dove sono presenti i cassonetti per la raccolta dei vestiti, segnalare sugli stessi che non viene più svolta, invitare la società preposta al servizio di raccolta a prendere atto della problematica, aumentare la vigilanza nelle aree sottoposte a Scempio, rivedere tutto il sistema di gestione della raccolta differenziata. Carlo Martello, segretario generale Confu Cooperative Taranto, lancia un duro atto d'accusa. In un momento in cui l'economia è in crisi sull'orlo della recessione, con migliaia di posti di lavoro a rischio, sarebbe stato opportuno che la burocrazia agevolasse finalmente le imprese invece di penalizzarle. Invece non è così a partire dall'articolo 48 del Decreto Cura Italia che prevedeva a determinate condizioni la trasformazione dei servizi sociosanitari da residenziali a semiresidenziali in domiciliari. Le cooperative titolari del servizio hanno elaborato e presentato il previsto piano di variazione che però, ad attività riattivate, è stato respinto perché la Regione Puglia, prosegue il sindacato, ha predisposto un'apposita modulistica sulla quale trascriverlo. Per i burocrati della Regione Puglia, informa sempre il segretario generale Confu Cooperative Taranto, evidentemente per i servizi sociosanitari non ha rilevanza la passione, la professionalità, l'esperienza, la capacità, si fa rilevare dei bisogni e soddisfarli nel migliore dei modi. Altro dramma, continua Martello, che è il segretario generale della Confu Cooperative Taranto, è la Cassa Integrazione Inderoga. Delle circa 30.000 domande presentate in Puglia ne sono state evase circa 14.000, lasciando così senza stipendio tanti dipendenti delle micro imprese, tra le quali moltissime cooperative sin dal mese di marzo. Anche qui il trionfo delle complicazioni con tre differenti strumenti di intervento, con disomogenea velocità di definizione delle istruttorie e quindi anche della corresponzione del denaro ai dipendenti. Cambiamo argomento, prosegue in maniera proficua la collaborazione tra il Banco Alimentare e le Comune di Taranto. Oggi la consegna di viveri per 107 famiglie segnalate dai servizi sociali, un binomio all'insegna della solidarietà. 107 famiglie tarantine segnalate dall'assessorato ai servizi sociali del Comune di Taranto riceveranno nelle prossime ore i pacchi di viveri del Banco Alimentare. La consegna è venuto presso il magazzino del Banco Alimentare di Puglia, nella zona industriale di San Giorgio Ionico, alla presenza del Presidente regionale del Banco, Luigi Riso, e dell'assessore comunale ai servizi sociali di Taranto, Gabriella Ficocelli, che hanno iniziato da tempo una proficua collaborazione. Presenti anche i volontari dell'Associazione Betel. Abbiamo ascoltato il Presidente Luigi Riso. Questo si aggiunge all'attività ordinaria che noi già facciamo. Noi già diamo da mangiare a circa 10.000 persone a Taranto. L'emergenza Covid ha fatto nascere dei nuovi poveri, tutte persone che prima facevano dei piccoli lavoretti e adesso non hanno di che mangiare, che si rivolgono all'amministrazione comunale per chiedere una mano. Avendo iniziato questa collaborazione con l'amministrazione comunale da tempo, abbiamo deciso di fare un intervento straordinario anche a queste 107 famiglie, che sono i nuovi poveri. Sono tutte quelle emergenze nate da questa pandemia. Sono 40.000 le persone a cui dobbiamo da mangiare. È un centro regionale nel senso che le associazioni di volontariato provengono da tutta la regione. Queste invece le parole dell'assessore Ficocelli. 107 famiglie che sono state segnalate all'ufficio Servizi Sociali e che si trovano in una situazione particolare, una situazione di crisi sociale ma soprattutto economica, perché sono quelle famiglie, quei nuclei che purtroppo hanno perso il loro lavoro e l'attività proprio a causa dell'emergenza coronavirus. Quindi cercheremo attraverso il Banco di Alimentare di raggiungere queste famiglie e in questo ci darà una grossa mano anche l'associazione Betel che si occuperà proprio della distribuzione di questi pacchi. E a Taranto la nave Costa si sposta, attraccherà al quarto molo sporgente. Attraccherà nella parte di testata del quarto sporgente, occupando uno spazio di circa 300 metri, la nave da crociera in quarantena Costa Favolosa giunta a Taranto lo scorso 24 aprile. Cambierà così ormeggio lasciando il molo polisettoriale del porto. La nave ha 674 componenti di equipaggio a bordo. Il suo arrivo nella città Bimare è stato chiesto all'autorità di sistema portuale del Marionio e all'amministrazione comunale dal ministro delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli. All'Agi il presidente dell'autorità portuale Prete ha spiegato che una parte della testata, circa 70 metri, deve ancora vedere il completamento dei lavori. Questi si riferiscono però solo al piazzale, mentre la banchina è già ormeggiabile. Portando qui la Costa Favolosa, ha spiegato Prete, lasciamo comunque a disposizione per le altre navi e imprese portuali come spazio pubblico altri 300 metri, essendo tutta l'infrastruttura lunga circa 600 metri. Il consigliere Angelo Dilena di Pulsano abbandona la Lega, ha abbandonato il gruppo provinciale, le accuse che Dilena rivolge al partito di Salvini. Mesi addietro di cara Dilena, sono stato pregato di entrare nel partito della Lega per dare il mio contributo nella segreteria provinciale e portare avanti un progetto a favore dei meridionali e dei pulsanesi. Mi era stato chiesto anche di fornire, aggiunge sempre Angelo Dilena, un vantaggio di fornire la mia esperienza a vantaggio praticamente della collettività ionica. E in un momento di crisi dei partiti, ma anche delle stesse ideologie, ho accettato questo incarico perché mi era stata data l'opportunità di dare voce alle fasce più debole della popolazione. La responsabilità mi ha portato poi ad anteporre gli interessi della collettività, della comunità, i miei personali del partito, entrando in conflitto con il sindaco Lupoli. Oggi più che mai non mi riconosco, dice sempre Angelo Dilena, nella classe dirigente di Pulsano che ci sta portando alla rovina. Continuerassero a servire la Lega, preferisco continuare il mio impegno civico e in politica. Non credo, conclude Dilena, che i problemi di Pulsano, ma anche della terra ionica, possano essere risolti dalle persone che rappresentano la Lega. Auguro comunque un buon lavoro a tutti e ad alcuni il raggiungimento delle proprie ambizioni personali. Io continuerò a lavorare, conclude Angelo Dilena, per il bene di Pulsano e per la terra ionica a disposizione, come sempre, dei cittadini. È il personale della squadra mobile eseguito un'ordinanza di divieto, di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 28enne tarantino, residente in provincia, ritenuto responsabile di condotte persecutorie nei confronti della sua ex compagna. L'uomo da mesi, sia telefonicamente, sia attraverso alcuni social, aveva iniziato a molestare e a minacciare la sua vittima, non risparmiando neanche i familiari. Minacce gravi di morte e di lesioni gravissime, che avevano di fatto provocato nella donna un notevole stato d'ansia e di timore per la propria incolumità personale. Il 28enne, attraverso alcuni falsi profili creati sui diversi social, aveva pubblicato con assidua frequenza frasi ed immagini minacciose nei confronti della sua ex compagna, arrivando anche a lanciare all'indirizzo della vittima dei veri e propri ultimatum. Ed ora rimaniamo sempre in tema di violenza a Taranto, violenza di genere, un video di sensibilizzazione su Facebook da parte dell'Associazione Alzaia. Il Covid nel nostro paese, come nel resto del mondo, ha fermato molte cose, non però la violenza sulle donne purtroppo. E se le campagne di sensibilizzazione attraverso gli eventi sono per evidenti motivi sospese, si può continuare sui social network. Un esempio arriva da Taranto. L'Associazione Alzaia ha avviato un autentico percorso di sette settimane che si può definire un viaggio interiore alla scoperta dei sentimenti più profondi attraverso la narrazione. Caro amore mio che non ti sei mai accorto di nulla, scrivo questa lettera che non ti spedirò mai, sperando di potertela leggere un giorno di persona a voce alta e riuscire a farti cogliere dal tremore della mia voce e dalle pieghe nervose delle mie labbra l'intensità di quello che sei stato per me. Ogni giovedì sulla pagina Facebook della ONLUS l'attrice Daniela Baldassara interpreta un reading con alcuni suoi scritti sugli argomenti da sempre cari all'Associazione. Il progetto si intitola In viaggio verso di noi. Fino ad oggi si è parlato di segreti di famiglia, tratta delle donne, violenza assistita, paura di amare. Il prossimo appuntamento è il 14 maggio. Al centro la violenza subita in età infantile. Il 21 maggio sarà la volta di credere di non meritare l'amore. Si concluderà il percorso il 28 maggio con accettare l'abbandono. Arriva l'estate e il Movimento Pulsano Bene Comune invita il Comune a dotarsi di un regolamento di gestione delle spiagge pubbliche per l'emergenza Covid-19. Dopo la ripresa da una settimana della cosiddetta fase 2 è tempo di iniziare a ragionare sul futuro ed è bene anche ripartire da quello che Pulsano ha di più importante, il mare. Il coronavirus ha un solo pregio, informa il Movimento Pulsano Bene Comune. Aver costretto tutti a smuoversi dalla propria zona comfort costringendoci ad immaginare un mondo nuovo. Il punto è che tutto questo dovrà già avvenire in maniera naturale, senza attendere l'emergenza che non dà di fatto il tempo di riflettere in maniera seria e con i giusti tempi. Occorre quindi da subito scrivere, dice il Movimento Pulsano Bene Comune, un regolamento che definisca i criteri con cui sarà possibile accedere ai siti balneari nel rispetto di tutti e dando a tutti la possibilità di usufruire di un bene primario, sia per quanto riguarda i turisti che per chi come noi è nato e vissuto vicino al mare. È compito, prosegue ancora il Movimento Pulsano Bene Comune, compito dell'amministrazione comunale, fornire gli strumenti per gestire bene ma anche in anticipo una problematica questa certamente complessa ma che può avere delle soluzioni applicabili e definite dal basso senza attendere ricette calate dall'alto da altri enti che finirebbero per scontentare inevitabilmente qualcuno. Il nostro territorio siamo noi e conoscerlo e quindi spetta a noi stessi, conclude il Movimento Pulsano Bene Comune, fare sintesi dei bisogni di tutti, dai commercianti al turista ma soprattutto del residente che paga le tasse e vive questo territorio praticamente tutto l'anno. E a San Pietro in Bevagna il mare cristallino rivela i preziosi sarcofagi di età greca proprio sullo fondale. Se le perplessità in merito alla ripartenza delle lunghe coste ionico-salentine restano tante tra plexiglass e altre proposte che fanno inorridire i più, certo si conferma l'alto valore del mare tarantino anche dal punto di vista archeologico, quelli che vi mostriamo sono i sarcofagi del re, blocchi di marmo greco grezzo cristallino risalenti al III secolo d.C. sono adagiati sul fondale delle acque di San Pietro in Bevagna. Ad immortalarli è stato l'occhio fotografico di Cosimo Trono, non sono sempre del tutto visibili per via delle mareggiate che ricoprono con la sabbia i manufatti, ha spiegato l'autore a Repubblica. Proprio questo quotidiano nazionale ha contribuito a dare risalto a queste belle immagini, uno squarcio di luce in fondo a un tunnel nero. Ognuna può pesare fino a sei tonnellate, si trovano lì perché durante un trasporto la nave si sarebbe inabissata circa 1700 anni fa. Viaggiava verso l'urbe, la città, ma non ci è mai arrivata. Peccato per chi all'epoca dall'altra parte attendeva. Positivo invece per noi che a distanza di così tanto tempo possiamo godere di uno spettacolo che parla di tecnica e mani sapienti. Ed ora una nota per quanto riguarda il rischio che è quello che stanno correndo invece decine e decine di commercianti di Taranto portati allo stremo da due mesi, ma anche di forzata inattività. Su alcuni si allunga l'ombra dei cosiddetti cravattali, cioè del mondo dell'usura. Altri non ce la faranno di fatto a ripartire. Tanti dipendenti rimarranno a casa ad allungare la lista dei disoccupati. Certo il 18 maggio la data di ripartenza non è poi così lontano, ma per la fragile e propria economia di Taranto altri dieci giorni di attesa possono rilevarsi davvero fatali per una miriade di piccole e tante piccole imprese, negozi e attività dal commercio al settore dell'artigianato. Consentire l'apertura anticipata darebbe qualche chance in più a chi è ormai sprofondato sotto la linea di galleggiamento e si attendono quindi le novità sia da parte del governo e sia le novità da parte dell'amministrazione comunale di Taranto, tenendo presente le prescrizioni e quello che varrà fuori dopo il 18 maggio. E intanto un Tarantino per quanto riguarda un evento davvero speciale, l'evento Teleton, un evento benefico Teleton in diretta web per sostenere l'emergenza Covid, quello che sta accadendo per quanto riguarda la pandemia. E nel cast il cantante Tarantino Gaetano De Michele. Ascoltiamo. L'Equador, più di altri paesi del mondo, è messo in ginocchio dal coronavirus, sta soffrendo una durissima crisi sanitaria. Tante, troppe le vittime, circa 10.000, calcolando al ribasso. Per questa ragione, nell'ora probabilmente più scura del paese, la rivoluzione suddana si stringe attorno al suo popolo attraverso il Teleton Canto per la Vida. L'evento, trasmesso in diretta streaming, ha visto alternarsi oltre 30 artisti, musica e solidarietà, una copiata vincente. Ai Tarantini ha fatto piacere notare nel cast anche l'eclettico e giovane Gaetano De Michele, artista pugliese noto anche oltre i confini regionali. La raccolta fondi Teleton è stata utile per raccogliere risorse economiche e materiali per le popolazioni più colpite dal Covid, in particolare nella regione del Guayaquil. Le notizie da Brindisi e Provincia con le accuse di contrabbando di sigarette, sei persone tra cui cinque militari della Marina Militare Italiana sono state sottoposte a misure cautelari dalla GIP del Tribunale di Brindisi. L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza parte da un sequestro di sigarette sulla nave Caprera nel porto di Brindisi, un episodio di cronaca avvenuto nel luglio del 2018. Sigarette di contrabbando e farmaci contro la disfunzione rettile. A quasi due anni dal clamoroso sequestro nel porto di Brindisi di dieci casse di bionde e dei medicinali per soli uomini a bordo di nave Caprera della Marina Militare Italiana, sei ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Brindisi, cinque delle quali a carico appunto di appartenenti alla Marina. In carcere è finito il tenente di vascello Marco Corbisiero di Torino. Ai domiciliari due militari dell'equipaggio della nave, il tarantino Roberto Castiglione e il mesagnese Antonio Mosca, mentre per un terzo membro il napoletano Mario Ortelli è stato disposto l'obbligo di dimora. Agli arresti domiciliari anche un ufficiale della Guardia Costiera libica, Mohamed Ben Aboulad. Sono accusati di aver organizzato a vario titolo l'imbarco e il trasporto dal porto di Tripoli a quello di Brindisi di 774 kg di sigarette di contrabbando e di alcune confezioni di Chalice, un farmaco simile al Viagra, scaricati sulla banchina Garibaldi del porto interno il 15 luglio 2018. Le sigarette e i farmaci, secondo gli investigatori della finanza, dovevano essere venduti illecitamente nelle basi militari di Taranto e Napoli. La mente dell'operazione sarebbe stata Corbisiero, ufficiale tecnico a capo del team, incaricato di coordinare il ripristino dell'efficienza del naviglio, ceduto dall'Italia alla Libia per il potenziamento del contrasto all'emigrazione clandestina proprio verso l'Italia. Con la mediazione dell'ufficiale della Guardia Costiera di Tripoli, il militare italiano avrebbe organizzato l'acquisto delle sigarette e dei farmaci con la complicità di alcuni membri dell'equipaggio. La merce, una volta sbarcata a Brindisi, doveva essere trasferita su un camion con le insegne della Marina nella base militare di Taranto. Corbisiero avrebbe anche tentato di comprare il silenzio di altri militari una volta che l'esistenza del carico di sigarette era stata scoperta a bordo. L'ufficiale è stato rinchiuso nel carcere di Taranto, ma potrebbe richiedere il trasferimento nel penitenziario militare di Santa Maria a Capo Avetere. Le indagini sono state svolte dal nucleo di polizia economico-finanziare della Guardia di Finanza di Brindisi, comandato dal colonnello Gabriele Gargano e coadiuvato dal capitano della sezione Tutele Economia, Agostino Taurino. I carabinieri della liquida radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto una 36enne del luogo per maltrattamenti in famiglia. In particolare, nella serata di ieri, presso l'abitazione di residenza della famiglia, la donna ha inveito nei confronti del marito convivente 42enne, insultandolo, minacciandolo con un coltello da cucina, al culmine dell'ennesima lite scaturita per futili motivi. I successivi accertamenti condotti dall'arma dei carabinieri hanno fatto emergere i ripetuti maltrattamenti in famiglia, nell'arco temporale 2019-2020. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, la 36enne è stata tradotta presso l'abitazione di residenza dei genitori in regime di arresti domiciliari. Cambiamo pagina. Oltre 20 discariche abusive sono state mappate dal comune di Brindisi, lungo la strada che costeggia praticamente le spiagge. Le contromisure saranno immediate, collocazioni di videocamere ma anche pattuglie in borghese per fermare i vandali. Sono oltre 20 i punti di abbandono rifiuti individuati lungo la litorania nord dal settore ambiente del comune di Brindisi. La mappatura delle discariche abusive è stata effettuata per procedere alla bonifica e alla collocazione degli impianti di sorveglianza che a rotazione si spera possano servire da deterrente contro chi ha scambiato la strada che costeggia le spiagge con una discarica da utilizzare liberamente. È sufficiente per correrla per alcuni chilometri per rendersi conto di una inciviltà che sfiora il vandalismo. Sedie, vecchi televisori, materassi e qualsiasi altra cosa non serva più in casa. Le buste di plastica nere punteggiano la vegetazione e arrivano sino ai bordi della strada. Purtroppo temevamo che ci fosse questo fenomeno ancora così diffuso perché abbiamo contezza delle segnalazioni che arrivano costantemente anche da parte dei cittadini coscienziosi che ci segnalano siti di abbandono. Chiaramente appena è stato possibile abbiamo fatto questo sopralluogo lungo la litorania dove ci aspettiamo anche in vista della stagione estiva che questo fenomeno possa in qualche modo incrementarsi. Come ha osservato il sindaco Riccardo Rossi in un post su Facebook queste persone si sono prese il disturbo di caricare nell'auto i loro rifiuti anche ingombranti e portarli fin lì quando esiste un centro di raccolta che serve proprio a conferire correttamente tutto il materiale che non si sa dove smaltire. Esiste il servizio a domicilio di rifiuti ingombranti e sono state installate le isole ecologiche ma le abitudini degli incivili continuano a lasciare tracce che ormai sono diventate parte integrante dell'ambiente trasformato in una gigantesca discarica come accade nell'area della vecchia Baraccopoli che un tempo ospitava in estate centinaia di famiglie. Queste videocamere saranno spostate con la rotazione ogni 45 giorni per cui avremo la possibilità di monitorare diversi film. Partiamo dalla litorania ma partiremo anche in città con degli appostamenti con la polizia locale in Borghese. Allo stesso tempo la nostra intenzione è di avviare delle sinergie con le altre forze dell'ordine per cercare di intercettare appunto queste persone che fanno questo abuso in qualche modo ma allo stesso tempo prevenirlo. E non si ferma il contagio però siamo quindi all'emergenza coronavirus il contagio tra i sanitari dell'ospedale Perrino di Brindisi e altri quattro casi positivi sono stati registrati nel reparto di pneumologia. Ne dà notizia il sindacato Cobas Brindisi. Quattro nuovi contagi all'interno del reparto di pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. Si tratta di un medico, due infermieri e un operatore sanitario tutti positivi al covid. Prima ancora che la notizia venga ufficializzata dall'ASL e ancora una volta il sindacato Cobas a rendere noti nuovi casi rivolgendosi al direttore generale Giuseppe Pasqualone e all'amministratore di Sanita Service Flavio Roseto ed evidenziando come alcuni lavoratori di pneumologia chiedano uno stop alle attività del reparto anche perché estremati dai turni di lavoro che con il covid-19 sono diventati estremamente pesanti e chiedono anche l'attivazione dei container dedicati alla terapia intensiva allo scopo di allentare la pressione nei reparti sotto stress. Con i quattro nuovi contagiati arrivano a 74 i sanitari risultati positivi al coronavirus in strutture ospedaliere della provincia di Brindisi. Oltre il 60% dei casi complessivi in Puglia rispetto a una popolazione pari al 10% di quella regionale. I Cobas sottolineano con preoccupazione che il virus è ancora presente nell'ospedale Perrino anche in vista dell'annunciata riapertura come no covid del reparto di medicina interna e che i lavoratori della sanità vanno ulteriormente tutelati dall'ASL. E le ultime polemiche tra il personale della Sanità Service e l'ASL di Brindisi costituiscono l'ennesimo triste episodio di una travagliata gestione dell'emergenza coronavirus nella provincia di Brindisi e in particolare nell'ospedale Perrino. Così in una nota la deputata brindisina Anna Macina del Movimento 5 Stelle la stessa deputata conclude dicendo in questo solco chiarificatore ho inteso inviare una richiesta di chiarimenti tanto alla regione Puglia quanto all'ASL di Brindisi e da tempo auspicano che giungano tutti i chiarimenti del caso richiesti anche a gran voce dal personale medico e dal personale sanitario. Già alla luce dell'elevato numero dei contagi del personale sanitario nella nostra provincia la regione Puglia prosegue sempre la deputata del Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto intervenire tempestivamente per riparare gli errori commessi in questi due mesi di emergenza. E le strutture ospedaliere della provincia utilizzate come reparti post-covid non vanno smantellate. Questo l'appello lanciato dal sindaco di Mesagne Tony Matarelli. Gli ospedali post-covid hanno funzionato bene e non vanno chiusi. L'appello arriva dal sindaco di Mesagne Tony Matarelli dopo che il Delellis per decenni uno dei nosocomi più importanti della regione è ridimensionato a presidio territoriale di assistenza ha vissuto un nuovo momento di gloria quando è stato trasformato in struttura post-covid. L'emergenza covid-19 ha dimostrato quanto la sanità pubblica italiana non sia all'altezza rispetto a problemi così importanti per cui riteniamo che si debba ripartire dalla sanità pubblica e ad esempio anche attraverso la valorizzazione delle strutture ospedaliere quale quella della nostra città il San Camillo dell'Ellis che ha dimostrato in un'emergenza così diciamo senza precedenti di poter svolgere una funzione assolutamente importante centrale per cui occorre continuare su questo terreno non si può tornare indietro e la sanità dovrà occuparsi anche da adesso in poi non solo della cura degli acuti quindi di coloro che sono ammalati ma anche diciamo deve per forza concentrare le proprie energie sulla prevenzione e sulla costruzione di modelli che propongano salute non solo cura ma studiare modelli che possano proporre salute la posizione assunta da Matarrelli non riguarda ovviamente solo la struttura ospedaliera di Mesagne ma tutte quelle che in questa provincia hanno dimostrato di essere fondamentali per affrontare un'emergenza che non si è ancora conclusa queste nostre strutture ospedaliere che esistono nella città come quella di Mesagne di Fasano di Cisternino di Ceglie possono svolgere assolutamente una funzione centrale anche nel breve periodo di risparmio di risorse perché se noi riusciamo a prevenire risparmiamo sulle cure e all'ospedale Dario Cammerlingo di Francavilla Fontana sono risultati tutti negativi gli operatori sanitari sottoposti a tamponi nei giorni scorsi dopo i contagi scoperti tra i pazienti di diversi reparti all'ospedale Dario Cammerlingo di Francavilla Fontana sono risultati tutti negativi gli operatori sanitari sottoposti a tamponi nei giorni scorsi dopo i contagi scoperti tra i pazienti di diversi reparti tra i quali medicina, ortopedia e ginecologia si tratta dell'esito del secondo ciclo di teste che sono stati effettuati a gruppi di 7-10 persone una buona notizia che fino ad oggi allontana ogni possibile ipotesi di focolaio si è ora in attesa dei riscontri del terzo e ultimo ciclo i cui risultati sono attesi a momenti è confortante sapere dice il dottore Biagio Dimitri primario di pediatria sul suo profilo social che presso l'ospedale e tutto il personale sanitario delle unità operative di medicina chirurgia, ortopedia ginecologia e pronto soccorso sono risultati negativi al covid-19 ritengo pertanto che l'ospedale di Francavilla Fontana afferma sempre il dottore Dimitri è sicuro e riesce a dare garanzie in questo periodo di eccezionale pandemia occorre comunque essere sempre vigili non abbassare la guardia e invitare tutti alla massima prudenza e cautela e domani si celebra la festa dedicata ad una professione in questo momento ancora più strategica per la società ricorre infatti la giornata internazionale dell'infermiere gli iscritti al sindacato Fialz dell'ospedale Perrino in pratica infermieri ausiliari e osso hanno preparato per l'occasione un video davvero speciale domani si celebra la festa dedicata ad una professione in questo momento ancora più strategica per la società ricorre la giornata internazionale dell'infermiere dedicata alla fondatrice delle scienze infermieristiche moderne quest'anno sarà sicuramente una celebrazione più solenne e più sentita gli iscritti al sindacato Fialz dell'ospedale Perrino infermieri e ausiliari a osso hanno preparato per l'occasione uno speciale video gli infermieri insieme ai medici sono in prima linea in questo periodo di emergenza sanitaria l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza il grande capitale umano in quota al servizio sanitario la pandemia mondiale ha svelato il volto umano di tanti infermieri ausiliari celato dietro quelle mascherine e quei camici che con passione e anche con competenza sono da sempre un punto di riferimento importante di tutti i malati e delle loro famiglie l'emergenza coronavirus ha messo sotto gli occhi di tutti l'estrema cura che questi professionisti dedicano al proprio lavoro gli infermieri sono in pratica un ponte diretto tra paziente famiglia e personale medico un canale di comunicazione molto importante dal Perrino di Brindisi l'omaggio degli iscritti della FIAZ per una ricorrenza che assume un particolare valore che rimarrà indelebile nel tempo Cambiamo pagina dal 12 maggio riapre il palazzo di giustizia di Brindisi sono previsti termoscanner all'ingresso e accessi per ora vietati al pubblico gran parte dei processi però proseguiranno comunque in via in videoconferenza oppure per via telematica Si torna in aula ma solo in quelle giudiziarie il presidente del tribunale di Brindisi Alfonso Pappalardo ha diffuso le linee guida che porteranno alla riapertura del palazzo di giustizia il 12 maggio prossimo si ricomincerà però con il divieto d'accesso al pubblico e termoscanner per misurare la temperatura di magistrati avvocati e dipendenti prevista la ripresa graduale dell'attività penale civile anche se per quest'ultima si tenterà di privilegiare il processo telematico circostanza non sempre adatta invece nell'ambito penale dove in teleconferenza si svolgeranno udienze di convalida e processi con detenuti tutti dovranno utilizzare guanti e mascherine procedere al lavaggio delle mani con sapono gel disinfettante almeno ogni due ore l'accesso alle cancellerie andrà effettuato dietro prenotazione per posta elettronica o telefono nel front office e nelle cancellerie sono già stati montati i pannelli in plexiglass i locali saranno periodicamente sanificati tutte le udienze dibattimentali penali saranno celebrate a porte chiuse dal 12 al 14 giugno saranno trattati solo i processi con detenuti e quelli giunti alla discussione finale alla sentenza privilegiata la modalità da remoto quando possibile e con il consenso delle parti solo in rari casi si potrà optare per i riti tradizionali dal 15 giugno previsto un ulteriore allargamento ma per l'utilizzo della videoconferenza occorrerà l'accordo degli avvocati tutto il resto è rinviato a settembre nel settore civile si dovranno trattare nei limiti del possibile i procedimenti in cui non è prevista la presenza personale delle parti e dei testimoni prima quelli più urgenti e datati prediligendo la forma da remoto o scritta rinviati a data successiva al 10 settembre i processi di recente istruzione o non urgenti e da tre anni un disabile chiede l'installazione di uno scivolo che permetta in pratica di raggiungere l'attraversamento pedonale accade a Francavilla Fontana tre anni più di tre anni da un'amministrazione all'altra con in mezzo un commissario prefettizio e le elezioni amministrative tre anni più di tre anni ma dello scivolo chiesto dal signor Giuseppe Zullino disabile al 100% costretto sulla carrozzina neanche l'ombra Viale Abadessa quartiere San Lorenzo sotto l'abitazione di Zullino c'è anche il passaggio pedonale da una parte lo scivolo c'è peccato che invece dall'altra parte ci sia solo il marciapiede una barriera architettonica di pochi centimetri che diventano però grandi così per Zullino che da tre anni protocolla richieste ad hoc a Castello Imperiali le risposte l'ultima in ordine di tempo ce l'ha fornita l'assessore Sergio Tatarano che conosce la situazione e promette una rapida soluzione ma anche l'adozione dell'agognato Peba il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche intanto si parta con quello scivolo tanto richiesto tre anni fa la prima volta tre anni e lo scivolo ancora non c'è e speriamo che questa vicenda possa avere una rapida soluzione la brigata Marina San Marco dopo poco più di un mese lascia Iesi dopo aver allestito un posto medico avanzato della Marina presso l'ospedale del comune Marchigiano le strutture sanitarie torneranno nella base di Brindisi il momento più emozionante è stato quello della dimissione tra gli applausi del primo paziente del posto medico avanzato della Marina Militare allestito per l'emergenza coronavirus nell'ospedale Carlo Urbani di Iesi sabato sono iniziate le operazioni di smantellamento della struttura i fucilieri di Marina della Brigata San Marco partiti da Brindisi lo scorso 10 aprile in meno di 72 ore avevano messo su la struttura sanitaria campale per metterla a disposizione dell'ospedale Marchigiano e il personale sanitario della Marina Militare proveniente da diversi sedi d'Italia aveva iniziato subito a operare all'interno dei reparti covid dell'ospedale affiancandosi a medici infermieri e tecnici dall'8 aprile il posto medico avanzato ha quindi cominciato ad accogliere pazienti covid in coordinamento con la direzione sanitaria dell'ospedale Carlo Urbani il 30 aprile è stato dimesso l'ultimo paziente terminato lo smantellamento la struttura sarà interamente stivata in container per essere trasportata ad Ancona da lì a bordo della nave anfibia San Giusto tornerà a Brindisi verso la base della brigata e una volta in Puglia l'intero dispositivo del posto medico avanzato costituito da uomini mezzi e materiali sarà pronto in tempi strettissimi ad essere rischierato ovunque sul territorio nazionale qualora ve ne sia la necessità e la Virtus Franca Villa studia il piano per trattenere anche per il prossimo anno un centrocampista che fa utile gola comunque alla Mister maggiori dettagli nel Tg Sport delle ore 15 ed ora le news da Lecce sale a 20 il numero delle vittime del coronavirus nella residenza sociosanitaria di Soleto la Fontanella si tratta di Antonio Costantini neurologo 68enne in servizio nel Viterbese ma ospite presso la residenza sociosanitaria di Soleto sale a 20 il bilancio delle vittime da coronavirus nella RSA di Soleto in Salento la Fontanella si tratta di Antonio Costantini neurologo di 68 anni in servizio nel Viterbese nel reparto di riabilitazione neuromotoria di Villa Immacolata a San Martino Alcimino fino a quando un ictus non lo ha costretto a trovare ospitalità nella RSA Pugliese ad annunciare il decesso è stato il sindaco di Soleto Graziano Vantaggiato attraverso un post pubblicato su Facebook brutta notizia per la nostra comunità è venuto a mancare il dottor Costantini medico uomo di scienza e professionista stimato innamorato del suo lavoro e della nostra Soleto lo avevo chiamato tempo fa per complimentarmi delle sue grandi scoperte pur non conoscendolo personalmente ho trovato una persona eccezionale di una umiltà unica come solo i grandi sanno essere la terra sia lieve al dottor Antonio come mi avevi autorizzato a chiamarti e ora parliamo una visione bipolare una visione bipolare alle volte che sembra descrivere due realtà contrastanti tanto da mettere in difficoltà anche chi come noi racconta ciò che vede e riporta ciò che dalle istituzioni viene commentato ed ancora cimitero aperto per poi chiuderlo per assembramenti e parchi da aprire ma in attesa di essere aperti ragazzi che possono uscire a fare delle passeggiate considerate legittime dal decreto ma passibili di multa se a passeggiare sia in troppi insomma tra controlli costanti e negozi chiusi la città appare sospesa tra ciò che eravamo e ciò che possiamo essere in attesa di comprendere ciò che potremo essere e fare domani perché mai come oggi possiamo fare nostro il verso del domani non vè certezza almeno per ciò che riguarda i decreti i permessi le autocertificazioni e le multe connessioni lente ma commissioni anche bloccate a Palazzo Carafa secondo i consiglieri di opposizione è impossibile usare le connessioni del comune commissioni online un fallimento commissioni consiglieri e conferenze dei capogruppi ostaggio di un sistema di connessione 5.0 che mai come adesso sta mostrando tutte le sue falle consiglieri collegati in remoto da casa altri in sala consigliare altri dei propri uffici personali ma ciò nonostante a detta dei consiglieri stessi è impossibile garantire il democratico dibattito politico in 32 minuti in 33 minuti ancora non abbiamo proferito una parola come si fa a fare una commissione in questo modo? non è possibile fare una commissione in questo modo infatti e così tra connessioni che cadono ed accessi provvisori passano i minuti e le ore senza produrre politicamente ciò che è stato inserito nell'agenda istituzionale da quanto tempo siete connessi e non avete ancora iniziato? 40 minuti 30 minuti 5 minuti e quanto dura una commissione? un'ora e non avete ancora affrontato alcun punto non vi siete neanche connessi? non abbiamo ancora capito l'accento siamo connessi non siamo riusciti a fare l'accento perché le connessioni cadono insomma lecce città smart è stato lo slogan lanciato in tempi non sospetti dal vice sindaco Alessandro Delinoci ma oggi in uno stato di emergenza Palazzo Carafa potrà avere la maglia verde di comune smart? non si dispiacerà se intendo venire al comune a fare le connessioni e anziché restare a casa la mia connessione personale non con quella del comune il presidente sta con quella del comune e non riesce a connessi mercatini aperti mercato bisettimanale aperto ma ambulanti ancora nel limbo delle incertezze questa è la situazione attuale degli ambulanti leccesi che nei giorni scorsi hanno minacciato di occupare Palazzo Carafa ma che ad oggi ancora non hanno avuto risposte sabato il sindaco Carlo Salvemini avrebbe avuto un incontro con il capo di gabinetto di Emiliano il dottor Stefanazzi per trovare un piano B e permettere a questi lavoratori bloccati dal decreto di riprendere la propria attività non sono ufficiali gli esiti dell'incontro anche se voci vicine al primo cittadino dicono che neppure questo incontro virtuale con Stefanazzi ha portato una reale soluzione ho fatto come ha lato come ha fatturato c'è di bravire c'è di mangiare qua non sono tibutoli c'è mangiare c'è affagliare ho pagato le tasse ho pagato quale sono dobbiamo pagare le tasse intanto non si placa la rabbia degli ambulanti che non possono più attendere che assicurano imminenti nuove mobilitazioni e intanto chiedono anche agli assessori di dimezzarsi l'indennità quindi adesso cosa farete adesso stiamo qua e ci colleghiamo qua stasera domani dopo domani perché lo sindaco lo dispiace solo non è una cosa che facciamo visto che mi dice che sto vedendo di risolvere già c'è settimana che ne picchia per culo siamo alla prefettura e qui non sappiamo qua c'era l'incontro gli stiamo picchiando per culo giuro per giuro mancherebbero i presidi di sicurezza alle poste ascoltiamo quest'altro servizio c'è stata una prima riapertura verso la celebrazione dei funerali con un numero ristretto ma adesso bisogna anche fare chiarezza su quella che è stata un'altra riapertura com'è la situazione in Italia e in Puglia come c'è e come c'è finora la celebrazione eucaristica domenicale e purtroppo anche quella diciamo dei defunti è stata limitata a poche persone invece adesso il popolo di Dio può partecipare naturalmente si tengono presenti alcune norme igieniche che sono diciamo puntualmente richiamate ci sono quelle diciamo generali della distanza del lavarsi le mani della mascherina e dei guanti e poi c'è tutta un'altra serie di accorgimenti che ovviamente bisogna tenere presenti innanzitutto bisogna calcolare quante persone dipendenza indipendenza dalla grandezza della chiesa non tutte le persone possono andare alla stessa messa così allora si suggerisce di moltiplicare anche le celebrazioni in modo tale che la gente possa scegliere secondo il numero che si può celebrare in una medesima chiesa prima di dare la comunione lavarsi le mani e dare la comunione sulla mano senza ovviamente diciamo toccarla per quanto riguarda invece i sacramenti per quello dell'unzione degli infermi e per quella della confessione bisogna avere sempre gli accorgimenti per esempio per la confessione bisogna evitare diciamo di stare nel confessionale stare in un luogo all'aperto e naturalmente anche con delle distanze tra il sacerdote e il penitente per l'unzione degli infermi ovviamente bisogna avere tutti gli accorgimenti che riguardano appunto la pulizia delle mani la distanza e la mascherina per quanto riguarda i matrimoni si possono fare però se si fanno diciamo in questo periodo deve essere soltanto a un numero ristretto che sono soltanto ovviamente gli sposi e i testimoni per quanto riguarda il sacramento della cresima e della prima comunione poiché sono dei sacramenti che richiedono necessariamente anche la presenza diciamo di tante persone genitori familiari allora sono stati reinviati da settembre a ottobre sperando che naturalmente si possano celebrare in quello periodo il servizio in onda riguardato la celebrazione sia pure con alcune prescrizioni del via libera alle messe servizio di Paolo Franz ed ora un servizio che riguarda le poste per l'altro mancherebbero gli obblighi di presidi di sicurezza ascoltiamo dalle prime ore della mattina le file per accedere al palazzo delle poste appaiono come serpentoni che occupano la deserta piazza Libertini orfana dello storico mercato rionale a causa dell'emergenza covid-19 cittadini diffidenti e rei ad ogni contatto fisico rispettosi delle distanze con mascherine e guanti un'immagine in antitesi con quello che poi si trova all'interno delle poste stesse dove non vi è traccia di colonnine e di disinfettante e di dispenser guanti le colonnine con la mochina non ci sono? no e non dovrebbero esserci per legge? no? ok arrivederci la legge non prevederebbe insomma che ai fruttori delle poste venga fornito alcun presidio questo almeno quanto dichiarato da responsabili ed in effetti anche nel decreto non abbiamo trovato alcun esplicito riferimento alla questione certo è però che barre di attività commerciali aperti hanno dovuto garantire ai propri frutto e l'utilizzo dei presidi imposti dal governo regole non garantite alle poste italiane dove ogni giorno accedono centinaia di persone dimenticanze incongruenza o ennesimo controsenso di questo governo e i commercianti di Tricase rinunciano al sit-in ma la protesta di fatto continua il sit-in non c'è stato ma la rabbia dei commercianti di Tricase resta invariata l'associazione commercianti dopo una serie di riunioni con la Digos ha preferito evitare la protesta che si sarebbe dovuta svolgere nella serata di domenica alle 20 in piazza Cappuccini per responsabilità e per evitare assembramenti l'associazione con un comunicato della presidentessa Stefania Palmieri ha deciso di non scendere in piazza ma ha comunque rivendicato alcuni punti di fondamentale importanza per poter svolgere il proprio lavoro la priorità per i commercianti di Tricasini riguarda il sossegno economico per mascherine igienizzanti dpi e dispositivi sanitari vari l'esenzione totale per il primo anno di tasse contributi imposte e tributi la richiesta di prestiti a tasso zero il contributo per le spese vive come luce gas e materie prime e gli ammortizzatori sociali anche per i liberi professionisti non solo per i dipendenti un grido d'allarme che resta immutato nonostante la piazza sia vuota per scelta e per senso di responsabilità scontro anzi polemica tra maggioranza ed opposizione i commercianti attendono una risposta per quanto riguarda le zone traffico limitato il commercio a Lecce è in sofferenza cosa fare allora in primis permettere ai leccesi di accedere al centro storico con le auto per poter incentivare il commercio d'asporto questa è la proposta del consigliere comunale Gian Paolo Scorrano la mia appunto era una semplice proposta tra l'altro sollecitata dalla gran parte dei commercianti l'attuale maggioranza ha inteso fare di una proposta ha inteso fare polemica una polemica inutile una polemica sterile tra l'altro motivando il loro diniego con la mancata possibilità di attuare l'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico occorrono insomma secondo il consigliere Scorrano degli interventi coraggiosi e drastici e che mettano al centro i commercianti dipendenti e tutte le famiglie che si trovano dietro ad ogni imprenditore e lavoratore sino ad oggi non possiamo dire che ci sia stato alcun tipo di sostegno nei confronti dei nostri commercianti non è arrivata la cassa inderoga non è stato fatto nulla se non quelle poche proposte iniziative fatte dalla minoranza ricordo ad esempio la mozione di Andrea Pasquino proprio per l'ampliamento degli spazi pubblici o come la proposta della minoranza di non far pagare la TOSAP cosa che non è stata mai fatta tant'è che questa questa amministrazione nonostante i proclami di sospensione della TOSAP non ha poi sospeso un bel niente perché se andiamo a vedere bene l'amministrazione ha inteso non far pagare la TOSAP per tavoline e sedie che non hanno mai occupato nessun tipo di suolo pubblico mentre per quanto riguarda le pedane che sono rimaste invece installate resta in effetti il pagamento così anche per la Tari la Tari non viene sospesa nonostante non sia stato erogato nessun tipo di servizio un funerale praticamente rovinato da una vigilessa troppo rigida solo l'intervento dell'assessore riporta un po' di tranquillità accade nel Salento è caos sui social a Lecce contro i vigili urbani più precisamente nei confronti di una vigilessa troppo ligia al proprio ruolo il fatto nel corso di un funerale che si è svolto nella chiesa all'interno del cimitero di Lecce nella giornata di domenica una cerimonia per una ragazza di giovane età che troppo presto ha lasciato la vita terrena un momento intimo riservato per la famiglia e per i presenti alla celebrazione che è stato turbato dalla presenza di una vigilessa che nel corso del rito ha fatto sentire la sua presenza andando a prendere i nominativi di ognuno dei partecipanti al dolore della donna si aggiunge la rabbia che sfoga sui social solo l'arrivo dell'assessore a ramo Sergio Signore però ha fatto tornare il sereno dopo che lo stesso era stato sollecitato all'intervento da parte di alcuni partecipanti alla funzione che avevano avvertito la forte presenza della vigilessa che stava però soltanto svolgendo il suo ruolo con un eccesso di rigore e di rigidità che rimane sempre quello soprattutto in questo momento in cui c'è da tutelare anche la salute dei leccesi certo però che forse un po' di tatto in determinate situazioni servirebbe anche da chi sta svolgendo un ruolo importante per la salute pubblica ed ora l'ultimo servizio riguarda Nardò numeri importanti per gli aiuti distribuiti dal comune il punto del sindaco Pippi Mellone 5.590 buoni spese distribuiti a 1.329 famiglie per un totale di 3.755 persone e 283.000 euro in totale sono i numeri degli aiuti che ha stanziato il comune di Nardò fondi previsti dall'ordinanza della protezione civile sugli interventi di solidarietà alimentare e risorse integrative dell'ambito sociale aiuti distribuiti non solo per chi ha un ISEE inferiore a 5.000 euro ma anche a chi ha dichiarato particolari difficoltà in un momento storico così anomalo pensiamo di aver attutito il colpo nel momento più difficile per la nostra comunità dice l'assessore ai servizi sociali Maria Grazia Sodero dando la possibilità a 1.329 famiglie quantomeno di far fronte alle necessità basilari sono tanti i lavoratori che praticamente dalla sera alla mattina continua l'assessore si sono trovati senza lavoro e senza altre fonti di reddito l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mellone aveva già distribuito 100.000 euro per il progetto spesa per bene iniziativa organizzata col supporto del comune e con la collaborazione dei cittadini dopo due mesi con tanti lavoratori costretti in casa e altrettante saracinesche abbassate commenta il sindaco Mellone possiamo dire che a Nardò nessuno è rimasto indietro con le risorse stanziate dalla protezione civile con le integrazioni di comune e ambito con i contributi di tanti privati con l'impegno dei dipendenti dei nostri uffici con la generosità disinteressata di decine di volontari siamo riusciti a non restare schiacciati dal lockdown Termina qui il nostro TG a seguire il TG Sport con i colleghi Giuseppe Andriani alle 15.30 fatti quotidiani al centro l'ospedale Dario Camberlingo grazie e buon pomeriggio grazie a tutti